Forse ad una svolta l'annoso problema del pagamento degli stipendi ai netturbini delle ditte che effettuano la raccolta dei rifiuti in diversi comuni della provincia di Agrigento per conto del lato GESA. Questa mattina nel corso dell'Assemblea dei Soci, in presenza di numerosi assessori e sindaci, è stata esaminata una proposta di stipula di contratti di servizio, ovvero contratti singoli tra la GESA G2, i singoli comuni e le imprese RTI. La convenzione sarebbe finalizzata alla regolamentazione dei pagamenti tra i comuni e il raccruppamento temporaneo di imprese. I sindaci mi hanno autorizzato a cominciare a disporre una bozza di contratto per impegnare i singoli comuni, il raccruppamento temporaneo di impresa e la GESA, a suddividere quindi il costo del servizio per singolo comune, in modo tale che il comune inadempiente, nel momento del pagamento, non avrà più il servizio. È l'unica soluzione per evitare i problemi del passato? Potrebbe essere una grossa soluzione perché nel momento che gli operatori ecologici protestano, magari protestano gli operatori ecologici di tutto il territorio dei 19 comuni, mentre sappiamo che alcuni comuni in questo momento sono perfettamente in regola con i pagamenti. Il sindaco di Aggregento Marco Zambuto, presente all'Assemblea dei Soci, si è detto particolarmente soddisfatto del sempre più probabile ritorno del servizio e della raccolta di rifiuti ai comuni. Finalmente l'Assemblea della GESA ha votato affinché ogni comune si faccia il proprio contratto di servizio con l'impresa, dentro l'appalto unico che vi è, con le imprese, in maniera tale che ogni comune potrà rispondere di quello che paga e del servizio che viene realizzato nella propria città. Si tratta questo di una conquista importante perché fino a oggi, dentro lato GESA, dove ci sono diversi comuni, è capitato che per via del mancato pagamento di alcuni comuni il servizio si bloccasse. In questa maniera i lavoratori, le imprese verranno pagate direttamente dai comuni e in questo senso ogni comune avrà la responsabilità sulla qualità del servizio nella propria città e sul corrispettivo del pagamento che dovrà dare alle imprese, in maniera tale che il sistema non si blocchi e in maniera tale che ognuno risponda nel proprio territorio e nella propria città del servizio che dà ai cittadini e soprattutto del pagamento che dà sul servizio che viene reso. Quando entra a regime questo accordo? Oggi c'è stata una manifestazione di volontà per cui si procede con la realizzazione del contratto tipo che chiaramente sarà sottoposto anche alle imprese. Le imprese penso che avranno maggiori garanzie dal fatto di stipulare il contratto con i comuni che da un punto di vista finanziario hanno una capacità con le banche sicuramente più sostenibile rispetto a quella che fino ad oggi aveva una società in liquidazione. E vi sono buone notizie per i netturbini dipendenti delle ditte che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni di competenza del lato GESA Agrigento 2. Il liquidatore Teresa Restivo ha versato 300 mila euro mancanti per consentire alle ditte di pagare gli stipendi di febbraio. Oggi vanno in banca i mandati per la differenza così ho completato il pagamento. In virtù di questo ultimo accredito loro pagheranno lo stipendio del mese di febbraio ai lavoratori. Ma in questo momento stiamo lavorando sia per recuperare le somme necessarie per pagare l'altra mensilità e poi per pagare le altre imprese che espletano i servizi e i vari fornitori che in questo momento sono anche pressanti.